Stessa zona, altra aggressione. Il problema del randaggismo a Sciacca rimane in primo piano dopo l'ennesimo caso verificatosi ieri in pieno giorno nel quartiere della Perriera. Ad essere stata aggredita da un cane in randaggio è stata una giovane donna saccense che stava percorrendo la via Allende. La malcapitata è riuscita a divincolarsi dalla presa del cane mettendosi ad urlare e subito dopo ha segnalato l'accaduta ad una pattuglia dei vigili urbani che transitava lungo la panoramica. Fortunatamente la donna non ha riportato gravi lesioni ma un lieve amatoma, indolenzimento nella parte del polpaccio azzannato e tanto spavento. Era andata anche peggio qualche mese fa ad una ragazzina che transitava sempre in quella zona alla guida di uno scooter e che aggredita dai cani in randaggio aveva perso l'equilibrio cadendo a terra ed aveva dovuto far ricorso ai sanitari del pronto soccorso. Su quell'episodio è stata presentata regolare denuncia. L'ennesimo caso verificatosi ieri è determinato la forte presa di posizione del consigliere Giuseppe Ambrogio che oggi torna ad accusare l'amministrazione di non avere risolto in questi anni il problema del randaggismo e nonostante le ingenti somme spese. Mi chiedo a quante denunce e a quante aggressioni dobbiamo ancora assistere, dichiara in un comunicato stampa, prima che chi di competenza riesca a risolvere una volta e per tutte questo problema che tra l'altro inizia a condizionare la libertà del cittadino. E' vergognoso, aggiunge poi Ambrogio, che il comune di Sciacca continua ad affrontare spese legali e sanitarie vista l'inadeguatezza dei provvedimenti sennora adottati sul tema randaggismo. E c'è da augurarsi, continua il consigliere, che si tratti sempre solo di cittadini leggermente feriti e non di casi di aggressione con conseguenze più gravi come è successo in altri comuni. Infine la critica politica che investe l'assessore competente Gaetano Cognata, del quale Giuseppe Ambrogio chiede le dimissioni per l'incapacità di ciò dimostrata in questi anni nel risolvere in maniera efficace la questione randaggismo. Non ci sono né scuse né giustificazioni, conclude il consigliere, perché il tempo è trascorso abbondantemente e il problema non si è stati capaci di risolverlo.